e recupera Tronghelliti ancora stavolta però il punto lo porta a casa è giocata molto meglio hanno un'altra la prima non si prende buono il dritto 40-30 largo il dritto ha giocato un'altra grandissima risposta primo set bellissimo questo dritto in avanzamento ma si era costruito il punto altra palla corta altro punto portato a casa tu è andato? no non è passato non è passato non è passato Nastro è ritornato in campo e poi ha superato successivamente quindi a 15 strappa ancora una volta il servizio a Tronghelliti che chiude 6-2 il primo set ancora con la smorzata aggiorniamo aggiorniamo statistiche della palla corta dove ci sono momenti appunto mentali importanti chiude lo smash cerchinato gran punto i game consecutivi diventano 9 siamo 6-2 3-0 bellissima volesto e 4-0 5-0 di certo magari oggi potrebbe parlare di meno è sicuramente grandissimo toccolo Tronghelliti che finalmente forse riuscirà a vincere un game bravo questa volta lascia le braccia al cielo Tronghelliti che riesce a vincere un game e chiude con la vola di rovescio 40-0 chiude con la vola di dritto braccia al cielo Marco Cecchinato sarà ancora finale per il tenista siciliano che match che ha vinto 6-2 6-1 in un'ora e 6 minuti su Marco Tronghelliti affronterà domani Guido Pella risulta giustamente Marco Cecchinato grazie grazie